Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto a tutti voi, anche per chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso YouTube. Dai nostri studi in Via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura di oggi dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Corriere delle Alpi e del Gazzettino di Belluno. Ma come sempre, prima di iniziare, leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata odierna, ovvero martedì 26 maggio 2020. Se senti di essere a cavallo, allora galoppa dritto fino alla meta. E con questa citazione addentriamoci nella lettura di oggi dei quotidiani bellunesi. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine. Ecco come si apre oggi il Gazzettino di Belluno. Allora, zoomiamo per vedere bene la prima notizia a piena pagina, ovvero sì al rinvio, ma con date certe. Ovviamente un aggiornamento di berito alla scelta di spostare di un anno, di rinviare di un anno i mondiali di sci Cortina 2021. La presidente degli albergatori di Cortina, Roberta Alverà, chiede di sapere al più presto quando saranno i mondiali. Guadagnare un anno consentirebbe maggior sicurezza, ma soprattutto di completare progetti ancora in bilico. Con l'approfondimento lo troveremo a firma di Di Bona, pagina 2. La foto di copertina ovviamente è sempre dedicata al futuro della provincia di Belluno e alla sua viabilità, come conseguenza anche dei mondiali 2021, o in questo caso possiamo dire 2022. Le opere previste per l'appuntamento iridato mancano i pareri ambientali. Cantieri Anas, lavori finiti solo nel 2024. Così si presenterà la rotatoria di San Vito di Cadoro, una volta ultimati i lavori che Anas ha in programma lungo l'Alemagna. Il rinvio dei mondiali di sci da febbraio 2021 a marzo 2022 consentirà un maggior avanzamento dei lavori, ma l'azienda delle strade ha già annunciato che comunque l'intero programma sarà completato nel 2024. Altri richiami in merito al futuro dei mondiali di Cortina, la fondazione Benetton, garantiamo così i bilanci. Voglio precisare subito che non si tratta di una insicurezza, ma di garantire i mondiali di sci garantendo l'equilibrio economico. Il CONI, Malagò, CONI, siamo costretti dalla pandemia. Per il presidente del CONI, Giovanni Malagò, lo slittamento è dovuto al fatto che in Italia si è scatenata una vera pandemia. E ancora l'appoggio sportivo di Cristian Ghedina e si arriva anche dal campione Cristian Ghedina. Se si dovranno disputare i mondiali a marzo 2022, poche settimane dopo le Olimpiadi Invernali di Pechino a febbraio, per gli sciatori non ci saranno problemi. Anche il sindaco appoggia la decisione, decisione condivisa anche da noi. La richiesta di rinvio di un anno dei mondiali di sci 2021 non ha sorpreso il sindaco ampezzano, Gian Pietro Ghedina. E dopo questo approfondimento che abbiamo trovato nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, riferito al rinvio dei mondiali 2021, un altro richiamo a scoppio alla Costan, evacuato un intero reparto. Paura ieri, poco prima delle 13, alla Costan Epta S.p.A. di Limana, fabbrica che si occupa della produzione di impianti per la refrigerazione in via degli Alpini 14 a Limana. Uno scoppio improvviso ha fatto temere il peggio a chi stava lavorando in quel momento nel reparto tetti. Fortunatamente non ci sono stati ferite o persone coinvolte. Questa è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche il Corriere dedica il titolo principale al futuro dei mondiali 2021 con il suo rinvio al 2022. Questo è il titolo mondiali. Cortina vuole rinvio in ballo 30 milioni di euro. Roda della Fisi una catastrofe se dovessero essere annullati all'ultimo momento. Il primo luglio la decisione della FIS. Ieri la presentazione ufficiale della richiesta italiana alla Federazione Internazionale dello Sci che ha preso tempo. Benetton, troppi rischi, un anno in più rasserenerebbe gli animi. I servizi li troveremo a pagina 2, 3, 4 e 5. Quindi un approfondimento consistente anche da parte del Corriere delle Alpi come fatto dal Gazzettino di Belluno. Il sondaggio. Nella fase 2 il Governo perde consensi. Lega è scesa al 24 e 5. Un anno dopo il trionfo alle europee con il 34 e 33%. Il consenso della Lega secondo Euromedia è sceso di 10 punti. Calati nella fase 2 anche i voti per il Governo. La foto di copertina è completamente diversa rispetto a quella del Gazzettino. Il Corriere delle Alpi la dedica alla riapertura delle piscine bellunesi. Potete nuotare in sicurezza questa la dichiarazione dei gestori delle piscine della provincia di Belluno. L'approfondimento lo troveremo a pagina 14 a firma di Santo Maso e Decol. La mappa dei contagio. Un aggiornamento in merito all'emergenza coronavirus in provincia di Belluno. Aumentano i comuni. Covid-free sono 40 e i comuni bellunesi Covid-free restano ancora importanti. Invece i numeri dei contagi a Borgo Valbelluno a 66 positivi. Pedavena 28, Lamone 18 e l'anno di Piave 16 comuni dove i focolai delle case di riposo hanno fatto la differenza. Belluno esce di galera, ruba un'auto e due e-bike subito arrestato. Protagonista un uomo di 50 anni ha ciuffato pochi minuti dopo il furto. Per lui si sono riaperte le porte di Baldenich. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi lo studio Arpav. I laghi bellunesi sono balneabili. Domegge unico bocciato. I laghi godono di ottima salute. Lo ha sentenziato Arpav che ha effettuato una serie di controlli sulla qualità delle acque. Ecco quindi la prima pagina del Corriere delle Alpi. Adentriamoci al suo interno per poi proseguire con il Gazzettino di Belluno. Ovviamente lo avete già sentito l'approfondimento e le pagine in primo piano. Le notizie in primo piano sono riferite al rinvio dei mondiali Cortina 2021. Questo è il titolo che troviamo a pagina 2. Rinvio dei mondiali. Roda attende la FIS. Scongiuriamo un danno da 30 milioni. La federazione internazionale deciderà il primo luglio. La cancellazione all'ultimo istante per noi sarebbe un disastro. Il governatore del Veneto a Zaia è impensabile rischiare. Vogliamo un grande evento. La regione ha inviato alla FISI una relazione epidemiologica a sostegno della richiesta dell'invio. Larga convergenza con Benetton e Malagò. Nel 2022 si profila una congiuntura positiva in vista delle Olimpiadi. E a proposito di Fondazione Cortina 2021. Benetton ha troppi rischi. Un anno in più ci rasserena. Il Presidente della Fondazione noi in realtà saremo pronti anche per febbraio. Però a questo punto deve prevalere un ragionamento imprenditoriale. Questa è un'intervista del Corriere delle Alpi. I conti oggi sono ok. Ma se ora iniziassimo a investire sull'evento e poi questo saltasse. Tutte le spese fatte sarebbero soldi persi. Parla il Sindaco Pietro Ghedina. Per Ghedina una decisione concordata e ragionata. Attenderemo il primo luglio per la decisione della FIS per una richiesta che abbiamo formulato dopo averla concordata e ragionata. Parole del Sindaco Gian Pietro Ghedina sulla proposta avanzata dalla FIS di posticipare i mondiali di Scialpino dal 2021 al 2022. Ragionavamo da alcune settimane sul rinvio dei mondiali al 2022, spiega Ghedina. Abbiamo concordato la scelta con FISI, CONI, Regione Veneto e Fondazione Cortina 2021. E sempre a proposito dei mondiali 2022, ormai possiamo definirli praticamente così. Il commento anche degli albergatori. Alverà nel 2022 Cortina sarà più accogliente e a misura di turista. Bertone allo slittamento un'ulteriore responsabilizzazione. Per Brignone è impensabile un mondiale senza pubblico. Parere anche da parte dell'onorevole Roger De Menek. Decisione che mi trova d'accordo. Nessuno vorrebbe un evento monco. Il pensiero anche arriva dal ministro d'Inca. Federico d'Inca è bellunese. Con il rinvio la regina sarà ancora più forte. In ballo ci sono i 400 milioni di euro stanziati per i lavori in vista dell'evento. Anche se mancano l'appello, le varianti di Cortina, San Vito, Valle e Tai di Cadore. E dopo questo approfondimento in merito ai mondiali 2022, passiamo ad altre notizie. Riferite però come è logico all'emergenza coronavirus in Veneto. L'infettivologa, il virus è alle corde. Forse eviteremo la seconda ondata. Ma fino al 18 giugno il rischio è elevato. Molti guariti presentano complicanze e fragilità psicologiche. Questo è il commento dell'infettivologa Evelina Zacconelli, consulente scientifico della regione Veneto. E a proposito di dati, come sempre leggiamo assieme l'aggiornamento che troviamo tutti i giorni sul Corriere delle Alpi in merito alla presenza dei contagi in Veneto, nel nostro caso in provincia di Belluno. Attualmente nel totale sono 1.162 il totale dei casi delle persone contagiate, con una variazione pari a zero tra le ore 17 del 24 maggio e le ore 17 del 25 maggio. 177 i casi attualmente positivi, 109 i deceduti, 876 i negativizzati virologici, 413 i soggetti in isolamento domiciliare. A livello Veneto, 19.098 il totale dei casi dei Veneti contagiati in questa pandemia, con un aumento di 7 contagi nelle ultime 24 ore. 2.505 i casi attualmente positivi, 1.883 i deceduti, 14.710 i negativizzati virologici, 2.619 i soggetti in isolamento domiciliare. Questi invece i casi dei ricoverati, ospedale di Belluno, sono 10 pazienti in area non critica, zero i pazienti in terapia intensiva, 97 dimessi dal 21 febbraio, 53 decessi dal 21 febbraio, con un aumento di 3 casi in area non critica, zero fortunatamente nella terapia intensiva e purtroppo abbiamo avuto un decesso nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia di Belluno. La somma invece dei dati riportati dai singoli ospedali della regione Veneto ci portano a questa somma, 181 attualmente i ricoverati in area non critica, 10 quelli in terapia intensiva, 3.295 i dimessi dal 21 febbraio, 1.358 i decessi dal 21 febbraio, abbiamo un calo di un paziente nell'area non critica, un calo di un paziente nell'area di terapia intensiva, purtroppo tre decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece gli ospedali di comunità, in provincia di Belluno ve ne sono due, uno nel capoluogo con zero pazienti positivi, 35 dimessi dal 21 febbraio, 17 decessi dal 21 febbraio, 8 in negativo il numero dei casi attualmente positivi e zero decessi fortunatamente nelle ultime 24 ore. L'ospedale di comunità di Agorda ospita tre pazienti, 29 dimessi dal 21 febbraio, un decesso dal 21 febbraio, un calo di quattro pazienti nelle ultime 24 ore, zero decessi nelle ultime 24 ore. A livello Veneto la somma degli ospedali di comunità e dei loro ospiti porta a 25 ospiti, 272 dimessi dal 21 febbraio, 37 i decessi dal 21 febbraio, con 16 pazienti attualmente positivi riscontrati nelle ultime 24 ore e fortunatamente zero decessi nelle ultime 24 ore, questo per quanto riguarda gli ospedali di comunità. Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 8, notizia che riguarda un approfondimento sempre in merito al coronavirus e prettamente la provincia di Belluno. Abbiamo avuto anche un richiamo dalla prima pagina, i comuni covid free sono 40, ma restiamo cauti, i sindaci di Ponte, Valle e Longarone chiedono attenzione, Borgo Valbelluna conta ancora 66 residenti contagiati. Diamo uno sguardo a questa tabella elaborata dal Corriere delle Alpi che rappresenta appunto la situazione comune per comune, vediamo immediatamente qual è la situazione per quanto riguarda Agordo, attualmente infetti 1, Arano dei Piave 16, Alleghe 1, Alpago 9, Arsie 3, Auronzo di Cadore 0, Belluno 6, Borca di Cadore 0, Borgo Valbelluna 66, Calazzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cinceniga-Gordino 0, Pazzi, 0, Casi, Cesio Maggiore 2, Chiesa al Pago, Cibiana di Cadore, Colle-Santa Lucia 0, Comerico Superiore 1, Cortina-Danpezzo 10, Danta di Cadore 1, Domegi di Cadore e Falcade 0, Feltre 9, Fonzaso, Gosaldo e Lavalle a Gordina 0, Lamon 18, Limana, Livina-Longo del Coldilano, Longarone 0, Lorenzago di Cadore e Lozzo di Cadore 3, Casi attualmente ancora presenti, Ospitale di Cadore 0, Pedavena 28, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore e Ponte nelle Alpi 0, Querovas 4, Rivamonte a Gordino, Rocca Pietro e San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comerico, San Pietro di Cadore 0, Santomaso a Gordino 2, San Vito di Cadore 0, Santa Giustina e Santo Stefano di Cadore idem, Sedico 1, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo a Soverzene 0, Sovramonte 1, Taibona a Gordino 1, Tambre, Val di Zoldo, Vallada a Gordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago a Gordino, Zopè di Cadore 0. Attualmente ancora i contagi presenti in provincia di Belluno sono 186, ma se facciamo una panoramica della tabella, dato che sono stati messi in evidenza con i comuni con zero contagi di colore azzurro, possiamo vedere che c'è una gran fetta di queste realtà comunali che sono attualmente covid free. Pagina 9 del Corriere delle Alpi, le mascherine anti-covid prodotte alla Palla Luxottica, la struttura che ospita la cena aziendale, quest'anno in fortissimo dubbio, destinata alla creazione del dispositivo anticontagio fino all'arrivo del vaccino. Intanto è stato annunciato il premio di risultato 2019 che sarà di 2.400 euro. Calalzo, Baralpino chiuso dopo l'estate, lozza non posso continuare, il gestore ha fatto i conti, non ce la farebbe a pagare contributi e stipendi senza mettere in repentaglio gli altri due locali. Il problema non è l'affitto, ma il costo del personale e dallo Stato non arrivano aiuti. I ristoranti, i conti sono in rosso, tra posti ridotti e affitti da pagare, la taverna sta recuperando a pranzo, ma fatica a cena, la Fenice tiene chiuso e continua con il solo asporto. L'assenza di spettacoli al teatro comunale pesa sull'attività della buca di via Carrera, quindi approfondimenti in merito ai ristoranti e alle pizzerie presenti nel capoluogo bellunese. E la situazione nel Feltrino, più che dimezzati gli avventori a tavola, ma c'è voglia di ricominciare a lavorare alla berreria Pedavena, tornano le famiglie alla pane e vina e si gioca la carta dei social network per invogliare i clienti. Prestiti fino a 25 mila euro con la garanzia statale, avvio lento alle domande, ma balzo a metà maggio il monitoraggio della Banca d'Italia sugli affidamenti alle aziende, Fidi con Sace a quota 2.896 in Porto Medio pari a 175 mila euro. E vediamo i prestiti a 25 mila euro nelle province venete. A Belluno, nella nostra provincia, ci sono state 355 richieste dal 17 aprile al 14 maggio, 231 richieste accolte a dato aggiornato al 15 di maggio. Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, ecco la notizia che ha aperto come foto di copertina la prima pagina, notizia che riguarda le piscine bellunesi, nuotatori di nuoto in acqua, riaperte le prime piscine. A Longarone si punta ad attivare presto i centri estivi dedicati ai ragazzi, tornato in servizio anche il Palasport, la prossima settimana via ai corsi. Messe in caledario in via Lungorova anche le sedute di allenamento degli agonisti e dei propaganda. Solidarietà De Rigo dona 100 mila euro per i tamponi al personale Ursle. Il gruppo pensa anche agli operatori sanitari di tutta la regione regalando loro occhiali. E la didattica online danneggia gli ultimi. I dubbi della referente Agnef Lucilla Rovetto alla scuola in momento di incontro e confronto che il digitale bandisce. Bravi i presidi ad assicurare i mezzi a settembre servono nuovi docenti. E vi è anche una proposta. Le esigenze della montagna sono diverse dalla pianura. Il sindaco Paolo Vendramini ha scritto a governo, Miur, Regione, Provincia, Prefetto e Anci per chiedere misure ad ocche per il territorio bellunese. Politica di partenza. Facciamo un flash in merito a questa notizia di carattere nazionale. Fase 2. Negli italiani cresce la sfiducia. In un anno la Lega perde 10 punti. Sondaggio Euromedia Research ha una settimana dagli annunci scetticismo sulle misure del governo per il rilancio. Ed ecco qui che vediamo in questa tabella, anche per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, la fiducia degli italiani rispettivamente verso Conte, Salvini e il governo. Vediamo che Salvini è in calo. Passa dal 40 al 0,4% del 13 marzo, il picco più alto, fino ad arrivare al 31,6% del 22 maggio. Conte è partito da un 34,9% del 13 gennaio, fino a raggiungere il picco del 48,1% il 25 marzo, ed arrivare al 44,3% per il quanto riguarda il 22 di maggio. A livello invece di governo, 27,5% la fiducia aggiornata al 13 gennaio. Il picco più alto è stato del 37,1% il 25 marzo, e attualmente si trova al 34,8% dato aggiornato al 22 di maggio. Ma continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Andiamo avanti, eccoci qui, pagina 24. Fatto di cronaca, esce di galera e ruba due bike e una panda richiedente asilo. Finisce subito in manette. La polizia lo ha intercettato in 40 minuti grazie all'allert sulla targa della macchina. Il jeep ha disposto che torni a Baldenic. Ed ecco qui alcuni scati, un momento della conferenza stampa in cui è stato presentato ed illustrato il furto, uno scatto della panda riconosciuta e il bottino, se così possiamo definirlo, all'interno della stessa macchina rubata. Pagina 25 del Corriere delle Alpi. Nei laghi belunesi nuotate, autorizzate, solo a Domeggia c'è la bandiera rossa. Arpava ha effettuato i controlli sulla qualità delle acque. Promossi il Miss, il Santa Croce e il Baccino del Centro Cadore. I custodi del territorio. È sempre presente la rubrica del Corriere delle Alpi dal municipio all'Orto per far vivere la montagna. Luciana Furlani si è arrivata nove anni fa dal veneziano con l'amica Elisabetta. Ha guidato la comunità per un mandato e ha lanciato l'azienda agricola Le Riede perché si sta guardando da Facebook o YouTube. L'ex sindaca di Cibiana, Luciana Furlani, si è arrivata nove anni fa in paese del veneziano assieme all'amica Elisabetta che frequentava da anni la località Cadorina. Ha terminato il mandato amministrativo e si sta dedicando alla produzione agricola recuperando antiche varietà che si erano perse come la costa gialla o rossa. lavoro nel settore primario a fianco a quello di coordinatrice alla RSA Marmalola. E qui diamola qui appunto nella sua azienda e con i vari prodotti che vende. Quindi un buon lavoro anche a lei. L'idea, l'importante è investire nel settore primario in qualità di ex sindaca ma anche come agricoltrice. Per Luciana Furlani si è fondamentale investire nel primario. Nel mio piccolo ho cercato di essere coerente con questo pensiero fondando una mia azienda agricola e facendo un mestiere che amo. Pagina 27, notizie che riguardano il capoluogo bellunese. Marciapiede a nuovo in via Rudio. Lavori entro l'anno nel 2021. Lucialed, la Giunta ha approvato il progetto di sistemazione. Quasi finito l'intervento sulla rete di Fognature e Acquedotto. Cencennighe e Manfroi ripreso da una telecamera. Sabato, ieri il Vertice in prefettura. Oggi riprenderanno le ricerche dell'uomo scomparso dopo essere uscito con il cane. Riprenderanno oggi le ricerche di Carlo Manfroi, il 63enne di Cencennighe che risulta scomparso da sabato. Ieri è stato convocato un Vertice in prefettura per decidere come proseguire l'attività di ricerca. Si è stabilito di perlustrare l'area in cui, in base alle informazioni disponibili, è più probabile che un uomo possa essersi recato per fare una passeggiata con il cane. Dunque l'area che da Kenet, dove Manfroi abita, arriva a Bricol, dove l'uomo è stato visto da un testimone alle 11.30 di sabato mattina. Ed eccolo qui Carlo Manfroi, ovviamente per chi l'avesse visto, l'avesse incontrato, contatti immediatamente i carabinieri. Notizie flash, Limana sarà riqualificato l'edificio che ospita gli sportelli postali. Sarà sfruttato un contributo di 70.000 euro dato dallo Stato. In futuro una parete dello stabile potrebbe essere la nuova sede di alcuni uffici comunali. Borgo Valbelluna dal 15 giugno al Via Igrest, adattato ai tempi del Covid-19. E a Limana scoppia un serbatoio all'Aipta Costa. Nessun ferito fra gli operatori. La causa dell'incidente è un possibile guasto al circuito di raffreddamento dell'impianto. Scattato il piano di sicurezza interno, reparto evacuato e danni al macchinario. Da Ponte nelle Alpi scontro in consiglio sugli aiuti destinati al settore commercio. Da sedico, ok e regolamento comunale per il volontariato individuale. Per Arolo nel patta la tutela dell'ambiente e recupero della Cavallera. Oggi il Consiglio provinciale, l'approvazione del piano di assetto del territorio di mezzata, l'edificabilità per il turismo si punta sulla ricettività di piccolo taglio. Borgo Valbelluna, Ciccini, IDEC, coinvolti anche gli eurodeputati. Sulla vendita austriaca i sindacati scrivono a Bruxelles. I rappresentanti in Europa sostengono l'azione di Castro. E ancora da Sospirolo, Sospirolo tra leggende e misteri pubblicato il Bando edizione 2020 dedicato a Secco. Ovviamente stiamo parlando del mitico Gianni Secco del 2i Belumat recentemente scomparso. Pagina 31, Cadore Delivery nasce una web app per sostenere la consegna a domicilio. L'idea sviluppata da Francesca D'Aforno, graphic designer originaria di Pieve e dal compagno Matteo Zucchetti. Feltre lavori al Parco della Rimembranza, gli alpini pronti con soldi e uomini. Il presidente Mariec, aspettiamo la chiamata del comune. Abbiamo raccolto 50.000 euro e la mano d'opera è gratis. Ancora da Feltre, sanità, ultrasuoni contro i tumori a fegato e reni. L'Ulst Dolomiti investe 187.000 euro per uno strumento a conferma del ruolo del riferimento per la chirurgia oncologica. Presto ci sarà la nomina del successore di Michele De Boni a gastro e in teorologia. Ancora dal Feltrino siamo a Cesio Maggiore, un chiosco per rilanciare l'estate all'Orsera, al sindaco Zanella. Abbiamo già montato 150 metri quadrati di gazebo fissi per garantire la copertura agli avventori. Passiamo adesso al gazzettino di Belluno. Ovviamente anche il gazzettino dedica spazio al futuro dei mondiali di sci. Cortina 2021, anzi ormai possiamo dire 2022, gli albergatori bene rinvio dei mondiali, ma solo con date certe. Questo è l'appello della presidente degli albergatori di Cortina, Roberta. La politica applaude, sarà il vero rilancio. I due parlamentari di Incai e De Menek concordi sulla bontà della scelta e del rinvio. Questo quindi quanto riportato dal gazzettino di Belluno. E per quanto riguarda invece la viabilità in provincia di Belluno, ANAS intanto avvisa opere finite nel 2024. Il possibile rinvio della data dei mondiali non interferisce sui piani aziendali delle strade. L'intero incartamento giace infatti ancora sui tavoli del Ministero Progetti. In attesa della valutazione di impatto ambientale fermi da 18 mesi, i tempi comunque sono lunghi. Screening del virus, campione di sette aziende per capire l'epidemia. Notizia che riguarda adesso invece il contagio coronavirus. Si tratta di un progetto pilota regionale coordinato dalla Spisal distribuiti quasi un migliaio di test per le verifiche e lo studio. Hanno aderito Clivet, Centro Sedico, Derigo Refrigeration, Far S.P.A., Luxottica, Unifarco e Vitec. Imaging Solution. E a proposito di COVID-free, ecco qui la cartina della provincia di Belluno e come potete ben vedere i comuni a zero contagi, sono sempre più numerosi, sono quelli di colore verde, da 1 a 10 contagi rosa, da 11 a 20 contagi un rosa più acceso, oltre ai 20 contagi un rosso. Ci sono anche due comuni invece che sono sempre stati immuni al coronavirus, anzi sono tre. Uno, due e tre. Patrimonio linguistico locale, premiate quattro scuole, il concorso Veneto ha saputo entusiasmare anche con il lockdown. E ancora per quanto riguarda la provincia di Belluno, continuiamo, siamo a pagina 15 del Gazzettino Parco, noi siamo pronti, avanti tutta con i lavori. notizia che riguarda ovviamente la sistemazione dei parchi del comune di Feltre, soprattutto dell'area della rimembranza, parchi che saranno sistemati dal volontariato e dal gruppo alpini di Feltre. Da Querovas, notizia di spalle, ladro di fiori gira tra le tombe, adesso basta, furto al cimitero di Quero e il sindaco pensa a fototrappole. L'approfondimento del Gazzettino, come fatto anche dal Corriere delle Alpi, in merito all'incidente avvenuto ieri alla Costan, scoppio all'Aepta, reparto evacuato. Bonus bebè per 44 nuovi nati, una notizia che riguarda invece adesso il comune di Longarone, un terzo di origine straniera. Al sindaco, i numeri restano scarsi, anche dopo l'unificazione dei municipi, la cerimonia di consegna sarà sabato in forma ristretta a un solo genitore. Notizia di spalle, da Longarone a Ponte nelle Alpi, ripartenza delle scuole, il comune scrive a Conte, la montagna abbia un posto al tavolo in cui si deciderà. Abbiamo esigenze e costi diversi, necessario anche ridurre il parametro di formazione all'unni classe. Cortina, piante schiantate, appello ai regolieri che a diritto può prelevare la legna dai boschi, gratis. Notizie flash dal Cadore, San Vito, piccola manutenzione al via sui tetti di palestra e comune. Auronzo, il Carducci apre prima, gite in totale sicurezza. Il rifugio in alta Val Giralba anticipa la stagione al 13 di giugno. Dall'agenda del Gazzettino di Belluno, maratona di lettura, successo strepitoso, bilancio oltre le più rose aspettative per l'evento Tutto Online causa Covid-19. Appuntamenti in una settimana, 124 mila persone raggiunte su Facebook, 18 mila con Instagram, contatti da Mezzomondo. L'assessore dal Bianco, grandi ricadute per Feltre. Passiamo allo sport bellunese, il San Giorgio Sedico punta a Mister Ferro per la panchina, notizia che troviamo nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi con vice Ivan Dariz. Il dubbio è legato alla speranza di guidare l'Union Feltre che però è sempre più vicino alla conferma di Andreolla. Sicuro il divorzio con Pontarollo per divergenze difficili da colmare. Notizia invece che riguarda il campionato tedesco, stasera Bundesliga, show Borussia, Bayern, il mondo davanti alla TV. E adesso passiamo alle previsioni del metto in Veneto prima di salutarci. Cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Parliamo ovviamente della giornata di domani, venti deboli moderati in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile. Mare calmo, temperature senza variazione di rilievo di notte in aumento leggero moderato di giorno rispetto a martedì. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluno, un'edizione come sempre dedicata alla lettura dei quotidiani Il Gazzettino di Beluno e Corriere delle Alpi. Prima di salutarvi come sempre vi lancio l'invito a donare il 5 per 1000 all'Associazione Belunesi nel Mondo donandolo all'ABM sostenete anche la web radio Radio ABM questo è il codice fiscale 0021 3580 251 Ricordatevi quindi dell'Associazione Belunesi nel Mondo della sua web radio in occasione della denuncia dei redditi il 5 per 1000 a voi non costa nulla ma per noi vuol dire molto. Ripeto, il codice fiscale da porre nel riquadro dedicato alle associazioni di promozione sociale 0021 3580 251 è davvero tutto buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM e la web radio dell'Associazione Belunesi nel Mondo dell'Associazione Belunesi nel Mondo